Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 un chilometro di coda in diminuzione per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Sulla Fipili per lavori un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra l'Astra Segna e Ginestra Fiorentina e sempre per lavori ma in direzione Firenze e rallentamenti tra Cascina e la dinamazione Pisa Livorno e tra la dinamazione Pisa Livorno e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori di pavimentazione è chiuso lo svincolo di Taverne d'Arbia in ingresso e in uscita in direzione Bettolle. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!